a rimini sulla riviera romagnola queste imponenti strutture possono rappresentare il simbolo della rinascita del paese appena uscito da oltre due mesi di lockdown sin dal 1933 e fino agli anni 70 migliaia di bambini hanno trascorso le loro vacanze in questo posto per molti di loro la prima possibilità di vedere il mare un gruppo di sindaci della città metropolitana di bologna sta portando avanti un progetto di restaurazione delle vecchie colonie di rimini contribuendo così al ritorno alla tanto agognata normalità in una delle regioni più colpite dall'epidemia qui e fino agli anni 70 i bambini nati in famiglie disagiate potevano trascorrere la loro estate insieme ai coetanei oggi qualcuno prova a riportare in vita queste strutture anche per dare un segno di rinascita a tutta la società italiana dopo il lockdown ridare nuova vita a queste strutture permetterà a tante famiglie di regalare ai propri figli una meritata vacanza al mare ma nel pieno rispetto delle precauzioni imposte dall'attuale emergenza sanitaria quello che offre oggi questo luogo paradossalmente quella socialità che il distanziamento sociale oggi ci vieta perché qua c'è molto spazio sarebbe possibile anche fare tante cose che in altri contesti sono vietati un'associazione di volontari di rimini gestisce la struttura e già da qualche anno organizza concerti e rassegni di cinema all'aperto ma la loro attività principale consiste nel recuperare la memoria storica di questo luogo dal 1932 al 1977 migliaia di bambini hanno frequentato questi posti noi abbiamo fatto una chiamata su facebook abbiamo chiesto di raccontarci quelli che erano i loro ricordi l'abbiamo fatto per ricostruire la memoria storica di questo luogo e per ricostruire anche quella che era la storia di questi di queste relazioni la storia dei ricordi di questi bambini un proverbio africano che secondo me è molto esplicativo se si sogna da soli è solo un sogno se si sogna insieme e la realtà che avanza la memoria di ieri e i progetti di oggi ridaranno agli italiani il coraggio di affrontare il presente e la voglia di pianificare il futuro dopo la pandemia grazie anche a queste maestose costruzioni sul mare luca palamara per euro news rimini